salve ragazzi oggi proviamo un'altra lametta utilizzando sempre una crema da barba già utilizzata ma con un'altra lametta e un altro rasoio cioè lo scopo di questa prova è quella di trovare per me per le mie esigenze si intende nella mia rasatura la crema adatta abbinata alla lametta perché ogni lametta come sapete a volte usiamo una lametta con una crema che ha una resa un'altra crema da barba ha un'altra resa perché sia anche il rasoio e useremo questo tipo di lametta questa ovviamente ne abbiamo le altre della astra anche addirittura della bica alcune anche già provate bene nella rio sono buone però io cerco di trovare qualcosa di adatto sia per il rasoio che uso sia per la mia pelle e il tipo di crema il tipo di crema perché una crema diversa da un qualcosa di diverso rispetto a una una resa della razzatura scusate è caduto il pacchetto eccoci ma per il rasoio invece andiamo a usare un buon rasoio l'abbiamo già usato di vista seguendo a proposito grazie per dei commenti che ho notato che ho molti diciamo visitatori con un problema come l'avevo io che ho abbandonato negli anni la tradizione e quindi la rasatura tradizionale usando questo adesso qualcuno dice grazie a te abbiamo avuto il piacere di ritrovare quel piacere che si trovava all'epoca che adesso non si prova più comunque il rito del della rasatura beh comunque per chi non l'avesse già saluto è questo qui la pensi è questo che io ho già armato che per vedere anche quella che l'esposizione della lama useremo questo oggi a differenza di quest'altro che poi lo useremo in un altro momento questo è un'esposizione molto più siamo aggressiva infatti ho deciso di usarla dopo due tre giorni senza essere di naso userò questo come primo passaggio questa è differenza dell'altro a un'apertura a farfalla ma ciò non cambia niente c'è apertura fa fa una tre bella se spuese solo una comodità di carico diciamo per armare ma è uguale e poi andremo a provare anche dopo aver fatto con ciclo anche questo lo sciavete il tipo di sciavete del barbiere che in effetti ecco usiamo però le stesse lame queste qui le lanciate le stesse lami che dobbiamo poi usare con questo ma non faremo un po più no poi quella mano libera ugualmente lo sciavete poi di quella mano libera io non mi sento ancora pronto però ad ogni modo poi andremo a provare dopo aver fatto un po di pratica insieme facciamo con questi qua che poi man mano andiamo anche a quello che può essere un po diciamo il massimo del tipo di rasature della comodità di poterlo anche affidare da noi comunque quello quello parimo dopo come vi dicevo non andiamo a provare la crema quella tradizionale la verde questa utilizzando la crema la barba il pro raso dopo marma questo il mitico 48 e la cattolina della pro raso sempre come per l'irritazione ho sempre usato questo tipo di crema dopo la rasatura prima si usava solo dopo barbio sangue buco quindi in quest'altra diciamo creme che abbiamo e che abbiamo già usato per la protettiva ecco questa è quella protettiva questa per le pelli sensibili e queste per le barbature che una crema che io ho trovato favoloso come a roma e come diciamo anche schiumosa questa è il pre barba della linea barbature rosso questo invece della linea protettiva e questo invece quello per la linea pelle sensibili che comunque ad ogni modo in questo non tanto mi ha soddisfatto forse proprio per questo essendo per pelli sensibili e delicato e la schiuma non è bella morbida a cosa ecco ci ho provato anche per la prossima metterò un po di creme che vediamo un po proviamo iniziare il dopo barba invece quello verde tradizionale quello mentre queste della linea rossa dopo barba della linea rossa ho premetto che queste cose che sono tutte quante comprate da me per chi mi sento io la vado a comprare ed è una mia sensazione che voglio condividere con chi guarda i video tutto bene la proraso però è un'azienda un'azienda molto antica che io usavo questi prodotti da giovane ovviamente invulcato da mio nonno e papà insomma che vedevo poi sono uscite le via tutte queste belle cose arrivate la plastica ma prima della plastica c'era il rasoio di sicurezza poi dopo la plastica per cui io mi operino inizia già esisteva la plastica però con il rasoio di sicurezza da parte dei nonni davanti facevo e poi man mano andando avanti la praticità la schiuma però si è perso tutto questo rito questo diciamo piacere che ognuno di noi alla mattina gatti cinque minuti in più cinque minuti più magari probabilmente ma cosa vuole che sia 57 minuti in più per noi che dobbiamo affrontare un'intera giornata e avere una barba o rasa con un sistema più tradizionale usando una crema un po più protettiva poco meno irritazione una lametta che invece di fare quattro cinque volte così ogni volta sono due passaggi per la doppia lama dei passaggi per il trilama addirittura cinque lame no diciamo io preferiscono questo romani sono tornato e poi divulgare questa mia esperienza di tornarlo a usare i prodotti quelli che usavo già una volta che far capire anche poi giovani ad altri che eventualmente dieci minuti per noi sono importanti per un buon vivere tutto qui ma comunque caccia le chiacchiere andiamo a fare il nostro saprava la satura un po di acqua come sempre appunto si chiama rasatura umida bagnata ecco qua usiamo un po d'acqua che il nostro pro rasa verde come pre barba questo serve per ammorbidire non la barba ma per la pelle rilassa la pelle che non trattiene con forza il pelo e si rende più fluida perché quando la pelle è rigida anche il pelo tiene rigido e non riesce a dare quell'elasticità del movimento della lama e questa cosa non tutti riescono a quantificarlo per cui adesso un minuto mentre andiamo a creare la schiuma con la crema da barba sta facendo il suo effetto questo è il gusto diciamo dell'aroma del mentolo credo che anche altri sappiano è il primo realizzato da quello che è la diciamo la proraso e naturalmente è quello un po più usato gli altri aromi sono stati un po fatti con le nuove esigenze con gli anni quello per barbe dure quello per la pelle sensibile quello che protegge un po che crea quello grigio quello che vuole questo perché sembra che crea un qualcosa che prende molto scivoloso il rasoio allora come sempre un po d'acqua torna per ammorbidire un minuto il pennello andiamo a realizzare la crema quella verde naturalmente la dose io come dose di solito usa questo qua e va bene va proprio bene la ciotolina è questa qui che abbiamo visto prima eccola qui vediamo dentro e andiamo sia nel pompaggio che nel senso rotatorio l'acqua è quella che dobbiamo dare all'interno a mano secondo le esigenze di ognuno di noi avevamo sposa meno sposo più fluida più rigida c'è un minuto e anche un pochi secondi poi la guardiamo se la vediamo un po troppo dura abbiamo problema l'acqua però poco nel senso passare il pennello così sul filo dell'acqua ecco così questa è una cosa che voglio insegnare sto spiegando io come faccio poi eventualmente è un consiglio che potrei dare con il permesso di mi ascolta dare un consiglio a quello che è e la crema è già pronta bella fresca naturalmente ma voglio fare un poco più morbida troppo dura mettete un po di acqua in più che sempre a senso rotatorio realizziamo quello che si dice ammorbidire la pelle molto bello la peschezza qualche cosa quello come dice ma non so da sui e questo già altri lo conoscete io con la scritta riesco a dire primo un lato e poi l'altro perché da un lato che io faccio pelle sempre tesa questo discorso l'inglinazione me la trovo non so se riuscite a sentire la lame nuovissima l'ho caricata a far l'armato che la prossima torniamo insieme ecco la colazione che andiamo a trovarci senza aver bisogno che poi ognuno ha le proprie diciamo formazione di viso motivo per cui abbiamo bisogno di conoscerci noi stessi per poi vedere quello che dobbiamo fare con il rasoio il rasoio è anche economico ma è importante comprarlo con un'esposizione e una protezione della lama perché troppo aggressivo come l'altro che ho fatto vedere c'è bisogno di tenere un po di attenzione in più poi ci si fa la mano e va via questo anche volendo non ci si fa del male non ci si diciamo taglia proprio perché ha un'esposizione di una lama tutta quanta così e alle due alette protettive che correggono eventuali nostre errore di troppo pressione di troppa pressione e allora e questo è l'altro che ho fatto mi prendo un po di schiuma e rifacciamo la passata seconda che è quella del contropeno siamo esigenti e andiamo a fare anche quello trasversato per una favola d'estate questo è il migliore prodotto gli altri sono buoni e freschi ma questo è il più fresco d'estate da una freschezza è una favola, una freschezza, una favola, un strumentolo quello che poi l'ha reso famoso, insomma a dirà delle proprietà lentive quelle proprietà insomma emolienti la qualità da tantissimi anni sempre stessa la ciotola che poi anche quella magari può aiutare loro dicono della crema può andare anche montata sul viso però io penso che facendo sempre così montato si ridà un po' di più la pelle il pelo si amorebidisce forse un po' di più non dando il sapore però io credo che con delle creme che abbiamo usato appunto quella pre barba e poi da quella lì che andremo ad usare per laderci sono abbastanza emolienti già questo qua in quei suoni 5-6 minuti già riesce poi questo a dare tutto qua io adesso userò l'altro lato del rasoio per fare il contropelo perché adesso io ritengo che il contropelo sia meglio una lametta l'ho già detto per chi già mi ha seguito sa il motivo adesso questa lametta qui ha il primo taglio e ce l'ha in contropelo nuova fresca diciamo a differenza dell'altro che ha fatto già il pelo e l'hanno già un uso questo è un mio pensiero e non è che ritengo che facendo questo sistema posso avere la lama sempre più diciamo più idonea e più affilata però è uguale che ogni lametta si possono fare tre qualcuno riesce a fare quelle quattro barbe ragazzi è bello provate se non avete già provato provate poi arriva anche un video per il setup e meglio potete iniziare consigliandomi qualche prodotto che anche il pennello prendete un pennello che dà il piacere prendete altri pennelli che molto potrebbe non non essere diciamo soddisfacente pennello di seto per come inizializzare un pennello come trattarlo per i primi usi per far sì che si renda subito già morbido e non aspettare che diventi talmente vecchio per poter avere il piacere di un passaggio di pennello così bello tanto che come quasi non si sente nemmeno lo faremo questa cosa e andremo a farla con alcuni tipi di pennello adesso per la nostra esistenza andiamo a fare il trasversale quello che naturalmente andiamo ad essere così esigente riuso l'altro lato e quell'altro lato ancora perché il trasversale va bene qui l'altro io me la conservo e andando a scovare anche qui i peli che li belli che ci hanno un po' diciamo resistito nel primo passaggio e nel secondo passaggio incontro anche perché ognuno ha la pelle in un modo o nell'altro io per fare diciamo il il trasversale qui ci devo andare in questo modo qui per la mia pelle qua altrimenti non riesco ad andarci perché è la formazione la crescita di che ho in un verso e tanti di noi abbiamo diversi diversi per la crescita io per la crescita e non riesco a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io uso l'acqua calda per fare questo servizietto qui. L'acqua calda è che mi aiuta a mantenere i cuori aperti. Perché? Perché naturalmente facciamo un'operazione di disinfettazione per il domobarba. Anche questo qua, quello che stiamo usando, è la stessa linea. Che poi diventa la prova dei nove nel caso ci fossimo tagliati. E' un prodotto molto estivo questo perché dà proprio quel senso di inverno. E' un po' meglio usare qualche altro prodotto se si è un po' freddolosi a voler provare questo. Anche in inverno va bene. Allora, quello che abbiamo usato per questa rasatura quest'oggi è, ripeto magari, la crema verde, pre-barba verde, il dopo barba verde, il nostro pennello e la ciotolina. Adesso, che si è asciugato, per l'irritazione andiamo ad usare una crema pre-barba, che poi è buona per l'irritazione, le punture di insetti. Infatti, io la uso per tutto quanto il viso, perché mi dà un po' di protezione. Perché per quello che si voglia, comunque, la pelle, dopo una rasatura, ha sicuramente il suo piccolo, non rossone, ma una piccola irritazione dovuta al lifting che fa la lama che passa, anche che era una sola. E abbiamo trovato l'irritazione giusta, però sicuramente il suo effetto lo fa, perché io lo noto dopo 5, 6, 7 giorni che ho cominciato ad usare questa crema, ho notato la differenza della pelle meno tesa durante la giornata, la mattinata probabilmente. Io ho notato questa cosa qui, è come se l'irritazione va un po' avanti, per un po' di ore, per poi regredire. Mentre con questa crema, con l'irritazione non va avanti, già si ferma subito, già sentite la pelle a poco. dovuto ovviamente forse anche al cocktail del prodotto, vale a dire il proraso, come pre barbe, quindi sempre qualcosa. Poi la crema da barbe, poi l'irritazione, però in realtà io con questo ho notato, perché con quello dopo, se non uso questo mi ritrovo un po'. Ma non solo per quello, ma tante altre sono uguali, uguali, tutte quante. Il rasoio che abbiamo usato, non so se eventualmente, l'ho fatto già vedere, è vero che la crema economica, c'è sotto c'è il link che eventualmente si è interessato, anche per questa qua, che io l'ho trovato a un sito, io ho pagato pochissimo, mentre ho risiedi in tante cose, io non perdo nessuna provvigione, sfortunatamente. Io perché divulgo questo, a parte di scherzi, la voglia di fare delle esperienze e condividerle, tutto qui. Non ho sponsorizzazione dei prodotti, li ho comprati per me, per il mio uso, anche se insomma ho voluto trovare qual è poi il prodotto giusto per me. Anche con il rasoio, ho ordinato un nuovo rasoio, donato, si apre a farfalla. È un po' più comodo l'apertura a farfalla, no? Che sia diverso da questo. Ecco, vedete, questo qua, adesso magari andiamo insieme. Basta mettere questo rasoio, si invita, il pezzo è questo. Questo qui già con la sola lama e un pezzo, la lama, eccola qua. Si pulisce, si mette la lama, questa qui così, sopra. Adesso lo facciamo, lo facciamo insieme. Io lavo, sto lavando la lama, chi la la mette va lavata, ecco. La lama la mette, va pulito perché questa è una cosa che dobbiamo fare. Ecco perché si parlava della rasatura per l'ammorbidire con, diciamo, un po' di crema pre barba. Pulire un rasoio, che igienicamente è sempre importante pulirlo, perché andiamo sempre ad avere contatto con la pelle, può sempre capitare un crashetto ed è sempre bene che il tutto sia pulito perfettamente. Ecco qua. Allora, questo è il cappello dove c'è scritto anche il nome, ecco qua. All'interno c'ha dei quadrettini dove va direttamente la lama ed eccolo qua. e la lama è andata. Poi abbiamo l'altro pezzetto che va su. Vedete come è fatto bene questo pezzetto, guardate. Le protezioni qua e qua. Non c'è possibilità di sbagliare perché è uguale e poi ci si avvita. Ed ecco qua. Non c'è proprio possibilità di sbagliare per niente. Ed eccolo qua. L'altro invece è più comodo che sia. Vedete, si mette la lametta, si tira così, però poi si sciaccia. Beh, è uguale, insomma, è solo quello che possiamo fare. Mentre quell'altro, poi l'altro c'è, si deve svidare. Lo guardiamo insieme, si deve svidare e lo rifacciamo. Ragazzi, grazie del tempo che mi avete dedicato. Se mi fa piacere, se non lo siete già iscritti, iscrivetevi. Segnatevi pure la campanella per avere qualche informazione, magari essere avvisati, qualche video che faccio all'improvviso, un video che poi magari mi viene. mi stanno arrivando degli altri prodotti che voglio testare ancora. Poi daremo un resovonto. Io guarderò e darò un mio resovonto. Se qualcuno mi dà anche il suo, qualcuno già l'ha fatto, dice già, ha riscontrato quella crema, quella crema per le barbeture. Questa qua, ha detto, Giovanni, hai ragione, è una schiuma, una panna, è una schiuma molto più composta, cremosa, proprio per questo, probabilmente per gli oli che ha dentro. Sono oli, diciamo, ammorbidenti, oli che ammorbidiscono la barba. Poi ci sono anche degli oli specifici per chi ha la barba lunga, che io qualche volta vorrei usare al posto di questo qua. Usare un po' di oli per vedere cosa succede, per qualche esperimento, per trovare dei composti, delle cose che le grosse aziende magari non lo fanno per il semplice fatto che, volendo fare loro queste cose, dovrebbero capire un po' le barbe di tutti quanti. Allora si realizza sullo standard, ai livelli europei mondiali, sullo standard di quello che è. Mentre così noi la realizziamo personale, una personalizzazione. Io per me e chi mi ascolta prova, anche lui, magari io trovo una composizione giusta per me, un altro con l'idea che ho dato io, col consiglio di provare, ha trovato qualche altra cosa che è ancora più contento, che magari poi ci scambiamo queste sensazioni, queste esperienze e vediamo un po'. Va bene, io vi ringrazio per l'attenzione, ci rivediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, sotto c'è sempre il link, eventualmente volete comprare la ciotolina che io ho fatto, un diciamo, un giro sul web, per trovarla poi questa qui a prezzo inferiore, lo potete fare anche voi, e poi magari decide se prende il più oltre. Gli altri prodotti sono della ProRaso, quindi ci sono i siti che vengono della ProRaso, 10 centesimi in più, 10 euro, ma comunque sono prodotti della ProRaso, quelli sono economici anche alla fine. e le lamette ne abbiamo già parlato, poi faremo un video esclusivamente anche per le lamette. Ci vediamo al prossimo, ciao!